sabato scorso a bari c'è stata la presentazione del libro del governatore della regione campagna de luca il titolo è un titolo anche piuttosto interessante detto da un dirigente del partito democratico che appunto scrive un libro lo intitola nonostante il pd ma tornando alle questioni affrontate dal presidente campano che appunto presentato il suo libro in un teatro baresi assieme al governatore michiel emiliano c'è da rilevare alcune cose molto interessanti che sono state appunto affrontate a cominciare dalla impossibilità di far partire la zess unica la zona economica e speciale perché il governo non si è ancora dotato dei decreti attuativi esistono problemi anche sull'utilizzo dei fondi europei i fondi di coesione e sviluppo de luca è arrivato a dire che denuncerà il ministro fitto in sede civile penale e contabile per il danno che sta arrecando alle regioni del mezzogiorno una cosa più interessante soprattutto per taranto e per l'area ionica il presidente de luca l'ha affermata in relazione alle risorse del pnrr de luca sostiene che la sua regione la campagna sarebbe disposta a rinunciare alla quota di risorse ad essa destinate per il comparto industriale se queste risorse servissero alla riconversione industriale dell'ilva di taranto è un'affermazione molto importante importante in linea di principio oltre che in relazione ad un atto di generosità che è una regione confinante con la puglia arriva a pensare in linea di principio perché l'utilizzo di quei fondi quelli appunto del piano nazionale di ripresa e resilienza che sono stati tolti dalla questione ilva potevano e possono ancora oggi rappresentare una soluzione per venire incontro alla necessità di quella fabbrica non soltanto di rilanciarsi da un punto di vista produttivo ma anche di poter traguardare un avvenire che sia ecocompatibile sostenibile con i temi dell'ambiente e della salute pubblica Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie a tutti.